Controllo sinistro sull'interno del palo e pallone in fondo al sacco Gol bellissimo, questa volta la difesa samarinese ha tardato a chiudere sul portatore di palla Non c'è stata pressione, lui ha fatto una grande finta prima del sinistro Lo possiamo vedere, guarda, va via molto bene, Palazzi è troppo lontano E poi naturalmente inventa questo sinistro straordinario che va a baciare il palo Si spegne l'MLM in fondo al sacco, gran gol Sì, bellissimo il gol di...